Trema ancora la terra nel sud Italia, una scossa di terremoto di magnitudo 3 si è verificata ieri lunedì 29 maggio alle ore 18.55 con epicentro a Laviano in provincia di Salerno. La profondità stimata è stata di circa 12.6 km, nessun danno a cose o persone. Grazie a tutti.